Un nuovo progetto di marketing territoriale organizzato dall'Istituto Fossati, di che cosa si tratta? È un progetto studiato col professor Paolo Manfredini, che unisce le cognizioni di marketing territoriali dell'indirizzo economico del Fossati da Passano con la mia passione, che è la storia. Infatti, legati a questo progetto di marketing, ci sono due volumi, che sono i Castelli di Malaspina e Lunigiana e la Montagna Pistoiese dal Medioevo al Settecento, che sono due libri complementari l'uno all'altro che trattano di storia, perché chi viene nel Golfo della Spezia e Lunigiano, che va nella Montagna Pistoiese, per esempio a sciare alla Betone, possa attraversare il territorio con conoscenze storiche. I libri sono stati pubblicati dalla Presidenza del Consiglio regionale della Toscana, tutte e due, e donati all'Istituto Fossati, affinché siano distribuiti nelle biblioteche scolastiche e nelle biblioteche comunali, perché possono essere uno strumento in mano ai docenti e in mano agli abitanti per la conoscenza delle valli, della Val di Lima, Montagna Pistoiese, della Val di Magra e ovviamente della Costa Ligure. Con questo progetto si tiene anche a valorizzare gli studenti meritevoli? Sì, infatti i libri saranno distribuiti il 12 aprile alle ore 10, non solo ai rappresentanti dei comuni del Golfo della Spezia, e che verranno a ritirarli, e dei presidi o dei loro delegati delle biblioteche scolastiche che potranno ritirarli, ma saranno premiati anche gli studenti del Fossati da Passano che hanno, nello scorso anno scolastico, avuto 10 decimi in storia. La storia è la mia passione, per cui gli studenti meritevoli dell'Istituto, nel quale ho insegnato tanti anni e che mi manca veramente, e mi mancano in modo particolare i ragazzi, saranno premiati dando loro questi due libri, perché è giusto che ormai con i miei capelli bianchi passi il territorio alle nuove generazioni di studenti appassionate di storia.